Zedor prova a indescare Unterar, conclusione che termina sul fondo Attenzione perché dentro c'è Unterar, gli Ambrosini, ma preferisce andare da solo Pato, fino in fondo, Pato, tocco dentro, ma la cuore è Gattuso! Clamoroso! C'è Pato largo a sinistra, può ricevere, ancora Pato, palla sul destro, Pato! Talo! Sbaglia invece Raggi, Inzaghi! Questo non è da lui! Ambrosini ha ricevuto da Pirlo, c'è Inzaghi a destra, Pato a sinistra, tocco ancora più largo verso Zedorf Attacca un quattro uomini al Sulmina, c'è anche Oddo che sta arrivando a sostegno, Zedorf Batte Raggi, Zedorf! 1-0 Milan! Clarence Zedorf spezza il sortilegio! Come ha trovato spazio il Milan, è riuscito a sfruttare la sua tecnica superiore Arriva Pirlo, tocco dentro verso Inzaghi, potenzione regolare, Inzaghi, Inzaghi! Sbaglia Inzaghi, clamoroso, ancora una possibilità, Inzaghi, palla sul sinistro, poi se la riporta sul destro di sinistro, palo! Incredibile! Bianculovski, il cross dentro, mette fuori Kalazza, non è finita, Vingazzini ha spazio per coordinarsi Occhio al destro, Vingazzini! Super Stolari! Palla dentro, Portanova! Fuori di nulla! Questa è la sua specialità! Palla non è stata un giro in peric stadium, percorso nella zona della estate SUV!